Benvenuti al castello di San Gaudenzio. Siamo in una location storica nell'oltre Po Pavese, siamo vicini al grande fiume italiano Po e siamo in questo grande castello che è stato edificato dai Visconti di Milano fin dal XIV secolo. Vi aspettiamo per una visita, una semplice visita oppure nel momento in cui decideste di fare il passo nel giorno più bello della vostra vita a prendere in considerazione questa location per il vostro evento esclusivo. Siamo nella Sala delle Dame, la Sala delle Dame è rappresentata con questa volta frescata da studenti dell'Istituto Brera di Milano, fin dal XVIII secolo rappresenta in gran parte tutto quello che è l'arte presente nella nostra struttura, quindi con una storicità rappresentata dai camini in marmo e appunto dagli affreschi fatti da studenti con capacità da vedere, assolutamente. L'antica sala da pranzo del Castello di San Gaudenzio, chiaramente queste salette antiche rappresentano quello che era la vita delle persone che abitavano qui, dei signori del tempo. La saletta da pranzo rappresenta in gran parte il modo in cui questi signori si mettevano a tavola. Dalla saletta da pranzo per passare alla chiesa parrocchiale che è attigua al Castello, una chiesa del Novecento, pensate, rigorosamente restaurata a cura della proprietà del Castello di San Gaudenzio una trentina di anni fa, riporta come era la chiesa in quel periodo. Ci sono delle icone abilmente restaurate che sono rimaste intatte nel tempo. Vi faccio vedere un'altra sala che è assolutamente adatta a quello che cercate, la sala Cesare Taverna. Al Castello di San Gaudenzio è possibile celebrare il matrimonio civile. La cerimonia si può svolgere sia all'interno della struttura, nella nostra stupenda sala Cesare Taverna, che potete ammirare con le volte di mattoni a vista e affrescate sapientemente, oppure all'esterno nel nostro meraviglioso parco. Eccoci nella sala ducale, la sala al primo piano, la sala adatta al vostro ricevimento. Stucco veneziano alle pareti e con un arredamento con sedie ricoperte, tovagliato di colore beige e tutta la posateria d'argento compreso il sottopiatto. Questa è una possibilità per il vostro ricevimento anunziale in una sala che contiene fino a 200 persone. Grazie a tutti.